ragazzi buongiorno bentornati qui sul canale allora prima di partire vi invito ad iscrivervi sotto c'è il pulsante iscrivetevi a tutti i tifosi della serie b like commentate e condividete allora oggi siamo qua ragazzi con lo speciale serie b sulla seconda giornata di campionato che si è conclusa ieri sera con la partita cittadella vrescia andiamo prima a leggere tutti i risultati e poi analizziamo l'insieme vediamo i gol i marcatori allora sapere si è giocato chievo salernitana è finita 1 a 2 per la salernitana che vince in in trasferta al 20 gol di vantaggio del chievo con mogos al 24esimo pareggia tutino e poi col partita giuric al 64esimo del secondo tempo quindi chievo 1 salernitana 2 poi il lecce vince 2 a 0 ad ascoli decidono i gol di mancosu al 54esimo ed ed enderson al 66esimo tutto nella ripresa i gol del lecce quindi ascoli 0 lecce 2 poi lo 0 a 0 al cassellane tra empoli e monza in questo big match della seconda giornata di serie b poi la regina vince 3 a 1 in in casa contro il pescara vantaggio della regina con gli 8 al 23esimo raddoppio sempre degli 8 al 27esimo triplica menetz al 44esimo e poi nel secondo tempo al 70esimo il gol di maestro per il pescara quindi reggia reggina 3 pescara 1 poi spal cosenza finisce 1 ad 1 al mazza di ferrara vantaggio della spal con salomon al 40esimo e poi al 94esimo nei minuti di recupero del secondo tempo pareggia piritiello per il cosenza 1 a 1 quindi poi il frosinone vince al al penzo di venezia 2 a 0 gol di novakovic al 58esimo e poi il 2 a 0 di timinski al 71esimo quindi venezia 0 frosinone 2 poi la reggiana vince 2 a 0 contro la virtus centella dicino di gol di mazzocchi al 43esimo e il rigore di varone all'ottantottesimo quindi ventella 0 reggiana 2 poi tra vicenza e portinone finisce 1 a 1 vantaggio del portinone con il dio primo gol per lui con il portinone al 54esimo e poi il pareggio di di cappelletti al 62esimo quindi vicenza 1 portinone 1 e poi abbiamo le partite giocate ieri pisa cremonese 1 a 1 al vantaggio di video al settimo per il pisa ha risposto la punizione di buon aiuto al 41esimo quindi pisa 1 cremonese 1 e poi il posticipo di ieri sera cittadella brescia 3 a 0 tondo 3 a 0 del cittadella sul brescia ha predurso al 58esimo raddoppio di zaju al 74esimo e poi il gol di gargiulo al 96esimo quindi cittadella batte prescia 3 a 0 e adesso andiamo ad analizzare tutti i risultati ragazzi allora la vittoria della salernitana in casa del chievo allora praticamente il chievo va in vantaggio con mogos grazie ad un errore di belez che non riesce a leggere questo cross arriva mogos che l'anticipa di testa e il roraggio qui del portiere e gol del vantaggio poi lo stesso mogos ragazzi con un gran tiro colpisce il palo veramente un gran tiro di mogos poteva essere il 2 a 0 del chievo poi al 33esimo ragazzi per la serenitana c'è tutino che dall'interno dell'era di rigore calcia va a segnare il 1 a 1 poi ragazzi nella ripresa al 63esimo occasionissima per giulici che fa gol ragazzi di testa va a segnare il 2 a 1 per la serenitana e poi ragazzi al 94esimo c'è questo c'è questo dubbio su un rigore che secondo me c'era c'era questo calcio di rigore per il chievo ragazzi non 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 la segniamo per farlo di casasola su obi casasola si vede chiaramente che che entra in in ritardo su obi che che si allunga questo pallone casasola entra l'arbitro era lì a due passi ragazzi decide di non assegnare questo calcio di rigore secondo me ragazzi questo rigore ci stava e con il VAR ragazzi sarebbe assegnato quindi io direi che alla fine per quello che si è visto ragazzi probabilmente un pari sarebbe stato il risultato più giusto secondo me però ragazzi come detto rimane questo dubbio sul rigore del chievo e arrivati a quel punto chissà cosa cosa sarebbe successo di secondo me il pari appunto ci sta però comunque questo rigore per il chievo era sicuramente da dare poi ragazzi passiamo a spal cosenza 1 a 1 nel primo tempo ragazzi un'occasione per il cosenza un calcio d'angolo calciato di direttamente in porta avvicina al gol quindi il cosenza poi ragazzi un tiro di esposito per la spalla fuori di pochissimo poi nella ripresa ragazzi col gol di salomon di testa lasciato veramente troppo solo dalla difesa del cosenza salomon stacca da sole va a segnare il gol del vantaggio della spalla e poi ragazzi a 15 secondi dalla fine della partita arriva il gol di tiritiello del cosenza praticamente c'è questo cross lui va a colpire questa palla di piatto ragazzi che attraversa tutta l'area c'è qualche qualche rimpallo non ci arriva nessuno ed è il gol dell'1 a 1 ragazzi direi che alla fine insomma un pari secondo me che ci forse avrebbe avuto più occasioni per segnare ragazzi il cosenza questo cosenza non muore mai non muore mai fino alla fine secondo me appunto il pari ci sta tutto un cosenza ragazzi che prende secondo me un buonissimo punto poi venezia frosinone 0 a 2 ragazzi nel primo tempo ci sono tante tante occasioni per parte secondo me ragazzi arriva il vantaggio del frosinone che è questo lancio una sponda ragazzi di una punta del frosinone arriva da dietro novakovic che sorprende tutti va a segnare con questo tiro l'1 a 0 poi ragazzi il raddoppia arriva praticamente su un cross altro colpo di testa difesa del venezia che si fa trovare un po' impreparata e 2 a 0 per il frosinone quindi secondo me anche questo ragazzi alla fine è un risultato giusto il frosinone ai punti appunto merita di più insomma va a segnare questi due gol un venezia che non ha fatto una gran partita quindi c'è una stessa con vittoria più che militare del frosinone poi ragazzi entella reggiano sicuramente bella bella partita allora nel finale di primo tempo l'entella vicino al gol con morosini colpo colpo di testa alto veramente di pochissimo non è poi ragazzi c'è un'occasione per per muratore di testa ragazzi traversa clamorosa sottoporta tiro di morosini a giro gran tiro grande parata ragazzi del portiere della reggiana che tocca sul palo poi ci sono un altro paio di occasioni per l'entella che non riesce a fare gol poi ragazzi arriva il gol del 2 a 0 sul fallo sul giocatore della reggiana carbo e poi ragazzi la reggiana sul rigone va da segnare il 2 a 0 e ragazzi ha una reggiana che vince in b dopo 21 anni ragazzi ritrova la vittoria in serie b la reggiana e secondo me ragazzi questo è stata veramente una bella gara tanto occasione insomma per parte e alla fine insomma sì ci può stare la vittoria della reggiana come poteva starci secondo me anche la vittoria dell'entella poi ragazzi reggiana pescara dice 3 a 1 per la reggiana ragazzi allora fallo su un giocatore del pescara a inizio partita rigore di galano che colpisce il palo quindi il pescara sbaglia un rigore poi ragazzi c'è l'1 a 0 della reggiana su un errore della difesa dopo una traversa colpita da menezzo quindi 1 a 0 ragazzi 2 a 0 è propiziato da un errore della difesa che praticamente si autolancia autolancia un giocatore della reggiana che prova a segnare il 2 a 0 poi ragazzi il 3 a 1 il 3 a 1 è un bel gol del pescara con maestro con un gran tiro ragazzi sotto l'incrocio dei pali da posizione defilata un bel gol quindi vince comunque la reggiana 3 a 1 ragazzi in casa una reggiana attenzione perché ragazzi c'ha tanti giocatori di qualità ragazzi come abbiamo visto anche in questa giornata menezzo ragazzi può fare la differenza in serie b poi Ascoli-Lecce finisce 0 a 2 per il Lecce primo tempo ragazzi con tante occasioni per il Lecce almeno un paio d'occasioni secondo tempo ragazzi gol di Mancosu del Lecce con una deviazione sotto porta poi ragazzi per l'Ascoli c'è Brozzo che sbaglia una girata da due passi e mette fuori che poteva essere la palla del pareggio e poi ragazzi arriva il 2 a 0 del Lecce con lo scozzese Anderson che sfrutta uno sferone della difesa sul filo del fuori gioco si inserisce va a segnare il 2 a 0 definitivo del Lecce vittoria alla fine secondo me che ci può stare appunto del Lecce ad Ascoli poi Vicenza-Pordenone ragazzi finisce 1 a 1 al primo tempo c'è un'occasionissima per il Pordenone di testa e poco altro nella difesa ragazzi allora c'è un gran tiro lì dal monte per il Vicenza a palo pieno poi ragazzi arriva il vantaggio del Pordenone con un gran gol di Dio il primo con il Pordenone che è praticamente sull'out di fondo campo di fisico difende questo pallone arriva sull'out e poi ragazzi calcia veramente benissimo a fil di palo e prende il portiere del Vicenza quindi Pordenone in vantaggio poi arriva ragazzi il bellissimo gol di Cappelletti con una sforbiciata che attraversa tutta l'area non la focca nessuno e finisce in porta e questo è il gol dell'1 a 1 poi al fine ragazzi secondo me per l'occasione un pari che ci può stare poi Pisa-Cremonese ragazzi finisce 1 a 1 apre il Pisa con un gran gol di Dio ragazzi a giro veramente un bellissimo gol, il pallone tenuto basso, raso terra sul palo più lontano non ci arriva il portiere della Cremonese poi ragazzi c'è un'altra occasione per il Pisa con Mazzitelli un colpo di testa alto veramente fuori di poco poi ragazzi c'è un'occasione per la Cremonese con Ciopani diagonale e Perilli si distende e devia in angolo poi ragazzi c'è un'altra occasione per la Cremonese con Finato di testa e un altro tiro di Finato deviata ancora in calcio in angolo poi ragazzi arriva alla fine del primo tempo la gran punizione di buon aiuto per la Cremonese l'ex giocatore del Perugia c'è un gran calcio di punizione, pallaca che tocca il palo e finisce che bellissimo calcio di punizione 1 a 1 poi ragazzi al secondo tempo c'è un'azione del Pisa con Sodimo che tocca pallone allungato più il secondo palo, non arriva Marconi per pochissimo poi ragazzi un altro tiro di Dio deviato in angolo e poi ragazzi c'è un altro giallo per il Pisa un gol secondo me buono, non dato il gol di Matucci sarebbe stato il gol del 2 a 1 nel finale per il Pisa ragazzi questa azione, queste carambole, questo pallone viene toccato alla fine ragazzi sembrerebbe che questo gol sia valido e sarebbe stato ragazzi il 2 a 1 per il Pisa secondo me questo gol era buono era buono e non è stato lato ragazzi quindi alla fine comunque un pareggio ragazzi che ci può stare tutti hanno avuto le sue occasioni e poi ragazzi chiudiamo con la bellissima partita di ieri sera Cittarella batte Brescia 3 a 0 ragazzi allora a primo tempo un cross del Cittarella dove non arriva nessuno ragazzi quindi un quasi gol, poi abbiamo un tacco di Durso fuori veramente di pochissimo sarebbe stato un gol spettacolare poi un tiro di Smeral del Brescia deviato in angolo da maniera veramente un bel tiro, grande parata poi ragazzi un'altra occasione un cross del Cittarella e qui è bravo Ioronen a toccare questo pallone poi ragazzi secondo tempo arriva il gol di vantaggio di Durso c'è questo pallone al centro lisciano un po' tutto e arriva Durso da dietro gran tiro lo piazza e va a segnare i gol del 1 a 0 poi ragazzi c'è il raddoppio di Saju primo gol per lui con il Cittarella ragazzi anche qui conclusione ravvicinata pallone deviato da un difessore del Brescia che finisce in rete quindi 2 a 0 Cittadella e poi ragazzi arriva l'occasione per il Brescia con Ragusa sotto porta ragazzi di chiesa ma non riesce a segnare poi ragazzi arriva al 94esimo il definitivo 3 a 0 di Gargiulo con un altro bel tiro piazzato quindi Cittadella batte Brescia 3 a 0 ragazzi non c'è niente da dire grande vittoria di Cittadella quindi ragazzi andiamo quindi al resoconto della giornata ragazzi è stata anche questa qui veramente una bella giornata ragazzi ricca questa volta fortunatamente di gol dopo tanti 0 a 0 nella prima giornata ragazzi non si sono risparmiati bella giornata, tanti gol, tanti bei gol anche risultati che non erano prevedibili secondo me e alla fine ragazzi secondo me insomma ci stanno tutti questi risultati che sono venuti fuori ragazzi allora la vittoria della Salernitana contro il Chievo alla fine ragazzi secondo me un pari era più giusto visto anche appunto il rigore non concesso al Chievo però comunque la Salernitana si prende questi 2 questi 3 punti importanti poi il Lecce ragazzi vince ad Ascoli secondo me anche questa vittoria ci sta tutta per l'occasione a Bucchi un Lecce che prende 3 punti ragazzi i suoi primi 3 punti in questa serie B Empoli-Monza ragazzi un big match senza gol ma veramente con un Brignoli in stato di grazia che va a togliere almeno 3 gol fatto di cui ragazzi una parata veramente clamorosa di Brignoli il primo tempo quindi un 0-0 ragazzi che alla fine ci sta un Monza che gioca meglio e un Empoli che si difende bene poi una Regina vince 3-1 contro il Pescara che ancora ragazzi non ha trovato questa qua ha cambiato tanti giocatori il Pescara una vittoria meritazza della Regina anche se con il rigore di Galano poteva cambiare tutto comunque una Regina che prende questi 3 punti e ci stanno tutti poi un buon pari tra spalle il Cusenza è un buon pari per il Cusenza che almazza ragazzi prende questo punto buono con un gol appunto al 94esimo una spalla ragazzi sì che ha le qualità ma ancora non si verono non si verono poi il Frosinone vince 2-0 a Venezia questo risultato più che meritato ragazzi un Frosinone praticamente che ha fatto la gara ha trovato questi due gol e vince la partita poi ragazzi bellissima partita tra Entella e Reggiana che per la Reggiana ci sta anche se ragazzi l'Entella ha avuto le sue belle occasioni ha sbagliato dei gol dei gol belli che fatti e ci può stare però ragazzi anche qui se fosse arrivato secondo me un pareggio insomma non ci sarebbe stato da dire niente poi ragazzi Vicenza-Fortinone secondo me questo è un pari giusto un pari giusto un po' di occasioni per parte ragazzi il Vicenza appunto che insomma che gioca bene ha trovato questo gol poi non ragazzi con Dio anche loro hanno cambiato tanto però insomma hanno trovato questo gol del pareggio un pari appunto che ci può stare poi ragazzi Pisa-Cremonese 1-1 questo ragazzi è un altro pari che ci può stare però come detto rimane il dubbio sul gol appunto del Pisa che secondo me c'era e il Pisa avrebbe avrebbe vinto appunto questa partita ragazzi una Cremonese che comunque con la qualità che ha un punto in due partite deve sicuramente fare meglio e poi ragazzi questo Cittadella primo in classifica stradipante ragazzi 3-0 a Brescia dopo aver vinto a Cremona vince anche in casa con il Brescia ragazzi occhio a questo cittadella ragazzi diventurato una squadra che si trova bene gioca bene ragazzi tutti i giocatori fanno quello che devono fare ragazzi attenzione a questo Cittadella perché perché magari potrebbe sembrare una squadra ragazzi non forte o comunque con giocatori meno meno decisivi da altre squadre ma ragazzi attenzione a questo Cittadella qui ragazzi comunque niente bella bella giornata di Serie B adesso ci sarà lo stop per le nazionali di 15 giorni e poi ragazzi si ripartirà con una terza giornata che si preannuncia scoppiettante quindi ragazzi niente per il momento direi che è tutto con questo speciale sulla seconda giornata di Serie B io invito tutti i tifosi della B ad iscrivervi like commentate noi ragazzi ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao